buongiorno a tutti ecco la sedia rivestita modello akira akira è caratterizzata da linee semplici semplici nel senso buono del termine è una sedia con struttura in metallo completamente rivestita ovviamente tra la struttura metallo e rivestimento di vostra scelta c'è l'imbottitura imbottitura che non è presente se non per un vellutino sottostante per la gamba e che ovviamente presente sulla parte di seduta maggiore sul fronte questa imbottitura in espanso e sullo schienale dicevamo forme semplici seduta lievemente più larga sul fronte ma non si stringe particolarmente nella parte posteriore su altre sedie si stringono maggiormente andando indietro schienale che parte largo come la seduta e poi va a rastremarsi a restringersi un attimo ma anch'esso non si restringe molto quindi poi lo vedremo quando mi siedo si appoggiano bene le spalle qui abbiamo la versione cosiddetta alta che è alta 94 centimetri di schiena la versione cosiddetta bassa è alta 88 quindi sono solo 6 centimetri in meno e devo dire sono solo 6 centimetri nominalmente però la differenza estetica si percepisce questo si può vedere in galleri e in termini di comfort la differenza è veramente sottile perché comunque entrambe le versioni danno un buon appoggio alle spalle in termini sempre manifatturieri diciamo è caratterizzata da una cucitura semplice che per come lavorata pur non essendo un profilo appare quasi un profilino qui sul perimetro della seduta poi probabilmente si vede di più su tessuti tentunita e questo è un po' screziato magari si vede meno e poi questa cucitura semplice che sembra quasi un profilino segue poi il profilo dello schienale vedete così ok vediamo sotto quindi come tutte le sedie rivestite è in questo caso completamente cucita non è sfoderabile rivestimento anche su modelli in cui vedete la cerniera la cerniera è solo per ragioni di montaggio qui non c'è alcuna cerniera vedete qui come si raccorda il tessuto al di sotto della sedia e poi il punto di raccordo delle varie patelle di tessuto che vengono prima tagliate poi piegate sulla struttura poi viene applicata questa teletta generica che è sempre nera indipendentemente dal colore che scegliete che va a finire la parte inferiore inferiore della sedia vediamo l'aspetto a un ultimo dettaglio sulla parte sotto vediamo che al termine della gamba viene messo questo puntale in abs nero ovviamente per proteggere sia la sedia che il pavimento stesso a poi a casa vostra sotto questo tipo di puntalino volendo si possono magari sono un pavimento in legno che voglio tutelare ulteriormente posso mettere un feltrino quei feltrini adesivi che ogni tanto magari una volta all'anno devo cambiare ma è questione veramente di un secondo a gamba per cambiarle vediamo l'aspetto di comfort dicevamo ricordiamo questa è la versione alta alta 98 e 94 cm ottimo sostegno sia la zona lombare che alle spalle immagino io sono 185 immaginiamoci quella di 8 in meno sì probabilmente magari anziché arrivarmi alle scapole lo sentirei più in basso ma comunque da un ottimo sostegno anche la cosiddetta versione bassa è un'altezza di seduta piuttosto importante nominalmente in scheda prodotto c'è indicato 48 50 normalmente questa misura è presa nella parte diciamo più alta dell'oggetto e che in questo caso era quasi sempre la parte frontale infatti soprattutto se sto in punta la sento piuttosto alta non in modo anomalo cioè il comfort è garantito però più alta alta di altri modelli ricordiamo quindi però la parte frontale anche quella con un'imbuttitura maggiore che ovviamente si comprime al nostro peso questa è una sedia che cambia molto proprio perché è semplice nelle linee la personalità le viene donata dal rivestimento che andiamo a scegliere c'è una gamma di rivestimenti molto ampia e possiamo dare due interpretazioni magari un po stereotipate di come usare akira e possiamo dire magari che la versione bassa quindi alta 88 magari realizzata in similpelle o con tessuti antimacchia molto performanti sia perfetta come sedia da cucina e magari la versione alta 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 94 centimetri magari realizzata con tessuti preziosi magari con un velluto un bel velluto di poliestere piuttosto che con una pelle naturale di vario genere pigmentato anche certi per certe pelli preziose in quella interpretazione akira diventa una buona sedia da soggiorno proprio per questa poi ovviamente queste non sono sono due interpretazioni appunto stereotipate poi ognuno la interpreta a modo suo nella propria stanza nella propria casa dicevamo il proprio per le sue linee semplici è una sedia che comunque la vado in qualunque sia il materiale con cui la vado a rivestire mantiene un ottimo rapporto qualità prezzo sedia completamente rivestita modello akira